ciao amici di youtube bentornati in questo nuovo video oggi siamo tornati su un kai star rail dopo qualche patch un pochino più tranquilla perché non ho pullato l'ultima volta che ho pullato è stato quando ci sono stati butyl e fushuan in contemporanea che ho fatto all in totale sono rimasta in banca rotta e con le pull che mi sono rifatta e la faccio dopo ho provato ad arrivare al piti per vedere se mi usceva firefly perché mi piaceva molto ma voi non lo sapete perché appunto i video sono soltanto gli estrapolati delle pull e quelle pull le ho fatte off live ho perso la mia firefly con un aimaco e infatti ho il garantito quindi oggi in realtà siamo abbastanza rilassati per quanto riguarda questo volpo l'unica cosa vorrei tenermi un po' di pull per il futuro perché la prossima è fresh out e voglio sicuramente anche lei quindi partiamo da piti 1 2 una cosa del genere comunque forse zero addirittura e abbiamo però il garantito quindi al piti troviamo lui io mi sono detta se mi esce presto un paio di molti sul banner armi le faccio perché mi piace l'arma che c'è insieme cioè a parte la sua ma anche quella di march è adorabile i 4 stelle un troiaio nel senso sono tutti personaggi o che non uso tranne wine life che me ne manca una che è l'unica cosa che veramente vorrei la mia ultima wine life e per quanto riguarda 50 e 50 a perdere non dico niente perché a sto giro se ti vuole siamo al sicuro e niente il resto delle pull che non vedrete oggi le tengo per face out dopo di me troverete anche le pull dei ragazzi che hanno pullato in questi giorni io vi auguro buona visione ok siamo a piti 0 vi faccio vedere perché arrivato ora piti 0 tondo con il garantito e andiamo a piti 10 prima multi 4 stelle vediamo quanti e quali soprattutto ok pom pom è un po di tempo che non ci vediamo mi è mancato questo coniglietto vediamo un po perfetto perfetto la mia essay di wine life ce l'ho quindi anche lei è finita ora definitivamente visto che comunque la uso mi piace tutto il resto top lei l'ho finita sono soddisfatta adesso di 4 stelle non mi importa più che cosa esce questa era l'unica cosa che effettivamente mi interessava e possono ok uscirmi armi come questa possono uscirmi anche tutti i peppi qualche hook va benissimo tutto l'importante era lei adesso l'abbiamo finita ok andiamo a 20 4 stelle vediamo allora se esce qualche hook sono contenta incredibile che io dia questa frase perché non la posso supportare però a livello adesso che ci sei effettivamente non è un dispiacere come lo era prima prima era una grande disgrazia vederla se c'era in retap qualcos'altro che volevo di più ora che è e6 mi sta anche bene allora abbiamo sicuramente un personaggio del banner perché è uscito una light cone ok la e7 ti guai come vedete per 20 perché adesso abbiamo fatto e6 quindi molto bene questa è una pull e noi le pull le teniamo strette in vista di quello che sta arrivando 30 4 stelle vediamo vediamo con tutto quello che arriva ragazzi anche solo la possibilità di sperare che ci sia domenico drippato fra qualche giorno non riesco nemmeno a esprimermi ok bene paradossalmente bene perché comunque io onestamente vorrei finire anche lui quindi è 3 ne mancano 3 alla fine anche di questo bambino tanto è inutile non lo builderò mai preferisco diventi utile anche lui 40 4 stelle domenico è sunday ovviamente ovviamente è sunday domenico vediamo vediamo genius response questa è molto buona questa light con 4 stelle è molto buona ragazzi molto buona quindi quella sempre consigliata 50 e intanto li faccio tutti li faccio tutti piti sempre mi perdono il garantito a questo giro perché se dovevo fare anche senza il garantito avrei avuto un altro piti perché è quello che ho usato per arrivare a prendere farfly però mi sarei un po' lanciata meno male a questo giro si fa il garantito vorrei sempre pullare con il garantito ragazzi che bella vita sarebbe perfetto una pull che non ci dispiace affatto più garantiti nella nostra vita ok 60 siamo quasi eh 4 stelle sì sì no garantito ragazzi veramente la la fa vivere bene make the world colamor un po' di light con che non mi dispiacciono ed un'altra guinefine meno male questo è il banner della guinefine cioè mi ama anche hook eh sono pull ma vedo guinefine sono più contenta 70 ok bene ragazzi potrei andare di singole perché ho il garantito ma preferisco fare le nostre 4 singole e poi la multi perché tanto comunque è piti cioè se mi esce che ne so a 78 poi sono a piti 4 la prossima volta invece partì a piti 0 no faccio per dire quindi faremo comunque la multi nel tentativo di vedere se esce magari lui più clara dico clara perché è l'unico 5 stelle che non ho ancora del permanente anche solo per completismo ok e 4 molto bene ne mancano 2 forse magari uno nel permanente uno di qua a proposito del permanente io ho il 5 stelle sul permanente oggi ebbene si raga io sono con 40 pull e sono a piti 60 tipo quindi abbiamo anche il 5 stelle sul permanente oggi oggi vi faccio doppio content si 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 allora 71 sarei contenta se uscisse clara da lì sono sincera perché mi manca o la light con di bronia credo forse che vorrei di più cioè una di queste due cose 72 73 73 ok non mi uscire ora che almeno tiro la multi 74 ok meno male ok raga molti del 5 stelle lui è garantito quindi a sto punto vediamo se magari troviamo che è anche stato accompagnato da qualcuno dai molti del 5 stelle let's go eccolo qua glitch del biglietto biglietto arcobaleno si va con point sta per essere lanciato nello spazio eccoci qua porta dorata ci siamo 75 76 subito 76 almeno in questo gioco a differenza di Genshin sembra che il piti 76 sia effettivamente il piti del rate up perché ne sono usciti 3 se non sbaglio se non addirittura 4 a questo giro tra le pool di tutti a piti 76 multi qua per vedere se mi esce questa perché ve l'ho promessa una ok liscia meno male speriamo speriamo che ci sia la 4 stelle la 4 stelle di marcia yes si si è il perforto raga tutta rosa non potevo non averla ora sono contentissima ho tirato solo per vedere se mi usciva questa perché adesso purtroppo l'arma del volpo non potevo puntare a prenderla volevo solo questa quindi sono contenta benissimo benissimo andiamo a piti 60 ve l'ho detto priorità in assoluto sarebbe carino clara perché è l'unico 5 stelle personaggio che mi manca e se no in alternativa la light con di bronia che è comunque molto buona e io ho tanti tanti armoni una pool buono una pool molto buona ok 70 ok in questa la prossima multi dovrebbe teoricamente esserci 5 stelle perché appunto come ben sapete si va al soft quindi per forza di cose deve essere così ok the one of my new life dovrebbe esserci speriamo un doppio 4 stelle visto che era la prima della multi un peppy volante sarebbe pazzesco incredibile che vogliamo peppy ok niente teoricamente andiamo a pt80 quindi multi delle 5 stelle ce l'abbiamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo c'è c'è siamo al soft vediamo però ragazzi il permanente va bene tutto permanente va bene tutto quelle due cose che vi ho detto le mie preferite una pool 71 72 73 74 75 siamo al soft 76 va bene una costellazione di Velt va bene va bene i miei amici il T-Lover sempre presenti è l'A1 perché lo trovo soltanto una volta sola è la prima volta che mi esce Velt in realtà quindi smash in realtà al signore va bene forza il primo volpo di oggi ce la dobbiamo fare andiamo paura mutti del 5 stelle se ora esce dopo l'84 mi lancio ok ce l'abbiamo paura e panico ansia ansia panico paura paura dai la luce dorata illuminazione divina ci siamo ok 75 76 si si il primo l'abbiamo vinto visto raga l'unione fa la forza allora ci siamo si eccoci possiamo andare 5 stelle ce l'abbiamo ce l'abbiamo anche io gioca a Pumong Go Velt con le mani così come la meme sugli italiani Velt io vi giuro se esce veramente Velt con sta cosa bella Pum una Pum Svelte Alice smettila smettila Alice ecco adesso non esce più perché Alice adesso sta stronzata Svelte spiegati guarda guarda Alice Alice sono cessa l'hai fatto Shibailu facciamo 74 poi faremo un attimo momento di attenzione per il ticket ecco qui ecco qui è qui è qui in singola Claudia in singola oddio così ci si sente male subito manca il tempo di realizzarlo va bene oddio non vorremmo fare il test vabbè non faremo il test Nilti no no Alice sei sempre Alice prima Bailu e ora che guarda incredibile vero eccoci qua eccoci qua ciao Dark Soul certo che mi ricordo di te ci siamo conosciuti su TikTok l'altra mattina assolutamente sì un attimo vediamo 75 76 77 78 79 80 proprio un cesso proprio cioè oddio oddio amici miei oddio rettificando proprio un cesso un bel signore però a livello di pool un cesso che il volpone sia con noi eccoci 5 stelle c'è ce l'abbiamo è già qualcosa se si andava oltre è veramente una rapina ok 75 76 77 78 ok sì sì che niente no 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 con Cava Cava the best che si chiama Riccardo ok 5 stelle 5 stelle dai light con light con ok guarda mi spuntano due dice Ale accidenti non conosciamo oh ma dove sta però scusami no non ci credo a nuovo nuovo vabbè vabbè nuovo va bene comunque ragazzi Alice 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 basta let's go molti del 5 stelle c'è ce l'abbiamo dai 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 forza 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 ciao ciao subito 75 subitissimo manco il tempo di realizzarlo sto 75 50 50 oh che sono 5 stelle anche Erli che giornata pazzesca evviva vediamo quale sarà il piti potrebbe essere piti gatti oh ci portiamo a casa la nostra sparkle vediamo un po' cioè meglio 41 42 43 piti gatti 44 no 45 piti valentino rossi 46 nemmeno 47 48 48 eccola qua bellissima piti 48 allora ci siamo siamo a piti 2 andiamo a piti 12 e nel frattempo magari finiamo guane fenne e io tre quattro 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 no allora ce l'abbiamo dai ce l'abbiamo vediamo simbolo grazie così c'è anche velto però ah beh ma almeno 75 eccoci si 76 esatto quindi nel mezzo c'è il nostro padre vedi due eccoci qua come sempre Federiana il tuo account non è detto ma anche se l'hai perso è sempre così con te eh ma non lo faccio purtroppo se ne è dovuta andare ragazzi Federiana è uscita la chiamata sono rimasta solo io è crashata ragazzi e dicevo è crashata Federica in questo momento purtroppo non c'è più ci sono stati problemi tecnici dovremmo andare avanti con le pool e quindi inizio a loggare nell'account di Fabio che è il prossimo a cui devo pullare siamo fatta siamo a 40 bene andiamo a 40 eccolo anche qua prima bene niente non mi stupisci non mi esalto cosa mi esalto a fare la normalità su dai 31 32 33 34 35 pure la mia armettina rubata 36 37 38 ci mancava ciao PDG ha nominato l'Arno è arrivato PDG non c'è da ora buona fortuna a nessuno oggi multi del 5 stelle 5 stelle presente in multi meno male se no se ne andai a 84 e c'era da lanciarsi alla finestra meno male ok ok 75 76 77 78 79 basta 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 almeno diventare 6 almeno almeno diventare 6 un 6 o più 80 ragazzi si è rischiato ad andare a 84 veramente 81 yes 81 ma almeno è stato vinto almeno è stato vinto almeno è stato vinto 5 stelle 5 stelle 5 stelle 5 6 c'è 5 stelle la light con di bronia fortissima 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 la light con di bronia la voglio anch'io non ce l'ho fortissima su sparkle questa dritta su sparkle ragazzi appena pullata la sparkle con la musica di sparkle sotto abbiamo evocato nel permanente la best windphone per sparkle ragazzi cosa è appena successo dai c'è anche il bless e la lizzi oddio la lizzi oddio oddio la lizzi oddio oddio la lizzi senti senti tutti 21 22 23 24 25 26 27 e papà oh mio dio 29 la lizzi la lizzi ragazzi 29 la lizzi oddio 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 Grazie a tutti.